Quali sono le colori? Mi piace proprio il colore, perchè va bene con il mio colore. Gli ho visti a Madrid in un viaggio e mi sono piaciuti perchè in legno, originali e tutto qua. Nel momento per usare le mie scelte, ho provato molto perchè voglio essere buona in foto, quindi ogni volta che vedo le scelte, faccio una selfie prima di comprare. Un po' per lo shape, quindi la forma e il volume che hanno e soprattutto perchè mi piace molto il tartarugato, quindi lo avvieni tranquillamente con praticamente tutto e rimane sempre molto elegante. Perchè credo diano una forma migliore al mio viso, quelli un po' più piccoli tendono a farmi sembrare il viso un po' a palloncino. Gli ho scelti perchè sono particolari e a parte che vedo benissimo. Proprio hanno delle lenti fantastiche e poi sono inusuali. Perchè mi piacciono gli occhiali tondi, sono un po' vintage e sono leggerissimi soprattutto. Mi piacevano con gli outfit invernali più scuri così e mi piaceva la lente a specchio. Bello scelti perchè sono simili a quelli di Alien Gisberg, lo scrittore della B-Generation, e quindi mi piaceva portare qualcosa che potesse essere simbolo anche di quell'età e poi trovo che siano perfetti diciamo. Grazie.